Benvenuti in questo nuovo video, oggi vi vogliamo presentare quello che è un prodotto completamente nuovo legato all'Ellas Verona parliamo della nuova Ellas Verona Official App 2.0 che potete già trovare sui principali store quali Google Play e App Store per Android e per iOS già scaricabile e pronta per il download. Andiamo però ad aprirla insieme e vediamo perché abbiamo voluto chiamarla 2.0 ecco vedete di primissimo impatto, vedete che è completamente nuova rispetto alla app che è stata lanciata ormai 4 anni fa nel 2013 alla quale nel corso del tempo sono state apportate delle migliorie, questa è decisamente una 2.0 perché introduce una vera e propria rivoluzione dal punto di vista grafico e dell'esperienza di utilizzo. Vedete nella parte superiore in continuità con il nostro sito ufficiale Ellas Verona.it le ultime news, in particolare le ultime 5 facili, pronte da aprire in ogni momento. Vedete, grande fluidità abbiamo voluto mettere in questa applicazione, potete vedere anche qui in alto a destra i tasti per la condivisione social che sono un'altra cosa completamente nuova. Questa parte qui centrale l'abbiamo chiamata Match Room perché è veramente una parte dedicata alla prossima e all'ultima partita del Verona. Trovate qui tutte le informazioni necessarie, in particolare sull'ultima partita basta cliccare su Game Report per vedere come è andata l'ultima gara, in questo caso quella contro il Cittadella, quindi tabellino e azioni salienti e tutto questo si aggiorna automaticamente durante la partita. Infatti durante la partita, appunto la gara, questa parte diventa interamente dedicata alla gara in corso e si può seguire azione per azione tutto quello che fanno i gialloblu in campo. Quando invece la partita deve ancora iniziare, come in questo caso, trovate i tasti biglietti e classifica per innanzitutto vedere la situazione della Serie B, quindi l'ultima partita e in particolare la classifica del campionato con il momento delle squadre e anche tutte le informazioni per comprare i biglietti. Vedete qui si aprono tutte le news, i punti vendita, i prezzi eccetera. Poi questa parte centrale dedicata allo store con i prodotti ufficiali che rimandano direttamente al sito ufficiale appunto del hvstore.it e la parte in fondo. Abbiamo voluto invece dedicare a quelli che sono i nostri contenuti esclusivi più importanti, quindi HV24, lo sapete, il TG che facciamo due volte a settimana, firmato è la Sverona, un TG che racconta quello che è successo in tutti gli ultimi giorni e ha sempre dei contenuti esclusivi. Questo è tutto nella home page dell'app. Vediamo poi un'altra cosa molto interessante a livello grafico in continuità con app che conoscete bene, ecco questa tendina laterale che va a comporre questa animazione insieme alla home page che va a aprire appunto tutto il menu e già qua vediamo tante novità, in particolare le news che c'è l'elenco completo quindi non solo le ultime cinque ma tutte quante le news di lsverona.it e la nuova sezione finalmente aggiornata a Radio Verona che è il radio partner dell'Ellas e qui tutte le volte che l'Ellas gioca potete ascoltare la radio cronaca esclusiva integrale, l'unica radio dove potete ascoltare la partita per intero. In video trovate tutti i video di Lsverona Channel pronti per essere guardati direttamente dal vostro smartphone e molto nuova è anche l'applicazione foto, qui trovate veramente tutti gli insiemi di fotografie legate all'Ellas Verona quindi ad esempio quelle del campionato partita per partita, queste sono relative all'ultima gara e è molto semplice andare a navigare, si può zoomare, le foto sono sempre a vostra disposizione anche per essere condivise. Tornando nel menu principale abbiamo parlato prima della match room, qui trovate appunto la partita in diretta quando l'Ellas sta giocando, poi risultati e classifiche, anche questa parte l'abbiamo vista prima, qui potete addirittura andare a navigare per tutte le varie giornate in maniera molto molto semplice e fluida per vedere giornata per giornata tutte le partite e restare sempre sempre aggiornati. Nella rosa anche questa è completamente nuova, lo vedete ci sono i vari giocatori scontornati e delle novità su ogni calciatore ad esempio vedete Luca Siligardi, oltre al numero di maglia e gli altri dati si trovano anche i social network relativi eccetera, tutti gli altri calciatori. Sullo stadio anche qui ci sono delle novità interessanti, quindi info generali, trovate una mappa che vi porta letteralmente dentro allo stadio Mettricodi, basta appunto farsi portare sulla geolocalizzazione e si apre una mappa che vi porta direttamente allo stadio. E poi un'altra funzione molto interessante secondo noi è quella del radiotaxi, quindi non sapete come arrivare allo stadio? Direttamente dalla app, permette chiama il tuo taxi così e potete far arrivare un radiotaxi Verona direttamente a prendervi, anche questo è un partner dell'Ellas Verona e qui su Biglietteria tutte le prossime partite. Ma ultimo ma non meno importanza, anzi forse la novità più grande, le notifiche. Per la prima volta sono completamente personalizzabili, andiamo a muovere i cursori, quello che vi interessa l'ho attivato e tutto il resto no. Però ad esempio se siete interessati più all'evento partita potete attivare quelle relative ai gol oppure alle formazioni ufficiali, se invece volete rimanere sempre aggiornati ad esempio sul calcio mercato estivo, quello invernale, le altre novità come i report degli allenamenti eccetera, attivate l'opzione Top News. Questa è in sintesi la app del Verona, tutte le altre cose non le abbiamo ripetute perché già le avevate trovate nell'applicazione che appunto esiste già da quattro anni, il Verona è stato uno dei primi club in Italia a fare una propria app ufficiale, quelle caratteristiche che avete amato in questi anni le ritroverete ancora, cambia completamente la veste grafica, speriamo vi piaccia e insomma buon uso di questa app per portare il Verona sempre con te.